Lo stacco in questo istante, si avvantaggia Naif di Poggio subito incalzato da Paride che prende l'iniziativa in 150 metri appena abbondanti, allargo è Pin Emon SM 200 in 13,5 prima curva con Paride al comando, Naif di rincalzo, Pin Emon allargo, poi Limpiao Stroke allargo Nia Gara Lux, primo passaggio di fronte alle tribune, Paride batte in strada, Naif di rincalzo su Limpiao, Pin Emon che batte corsi esterni seguito da Nia Gara Lux e Nadir dei venti, in corda sono invece Oblio dei venti e poi Norris Griff in coda, i 600 iniziali in 43,5, tiene ritmo estremamente selettivo Paride, Pin Emon allargo, Naif in corda allargo Nia Gara, poi Limpiao e Nadir, il completamento degli 800 in 58,5, quali che ora imboccano la lunga retta apposta alle tribune con Paride Battistrada, Pin Emon allargo, Naif alla corda, poi Limpiao e Nia Gara, terza ruota per Nadir dei venti, lascia lo steccato anche Oblio dei venti, Nia Gara è sempre lì invece in scia Pin Emon, quando mancano 400 alla conclusione, Paride in vantaggio, Naif che sbaglia, Naif che segue, allargo Pin Emon in calo, ha girato da Nadir dei venti, Paride in fuga, 3 di vantaggio su Naif, Nadir dei venti allargo, sbaglia Pin Emon SM, ingresso della retta di arrivo, Paride in chiara evidenza, Naif alle prese con Nadir dei venti, Paride in Pincenetto davanti a Nadir dei venti, per il terzo sono in linea, Nia Gara Lux e Oblio dei venti, io ho 1,57 appena abbondante, la media intorno all'1,13, 1,13 e 2 potrebbe essere il riferimento per Paride che domina dal leader con Beppe Lombardo Junior, per il training del team Lombardo, i colori della scuderia Bello Sguardo, raddoppio per tutti dopo il successo ottenuto con Seedown Slid SM.